Ben ritrovato in una puntata di 4 chiacchiere con ospite di oggi il sindaco di Sarassa Sergio Gelmini. Ben arrivato. Grazie. Sarassa, ripercorriamo un attimo questo mandato, anche Sarassa andrà ad elezione nelle prossime amministrative. 5 anni, tanto lavoro, tanto impegno per questo piccolo comune. Sì, sicuramente sì. Sono arrivato anche con un'esperienza da consigliere, però comunque non è mai come fare il sindaco. Ho scoperto delle cose che pur frequentando già da anni gli uffici comunali, quasi nero, non dico all'oscuro, ma non le conoscevo. Poi negli anni comunque cambiano le leggi, cambiano molte cose, per cui c'è sempre da imparare, cose nuove. E poi è molto più impegnativo rispetto a quello che si può vedere da lì fuori. Sì, sicuramente sì. Sono state fatte tante cose, Sarassa, partiamo dai lavori, quelli principali, quelli che magari la popolazione ha visto subito, le asfaltature piuttosto che la segnaletica. Sì, diciamo che abbiamo fatto molte cose che magari non sono visibili, che però hanno reso più efficiente il comune e anche reso in termini economici sulle caste del comune, per cui anche sui cittadini. Parlo ad esempio di efficientamento elettronico, parlo di caldaie. Certo. Abbiamo cambiato caldaie in quasi tutti gli edifici comunali, montando caldaie ad alta efficienza condensazione. Abbiamo messo pannelli fotovoltaici su quasi tutti gli edifici comunali, sostituito in fissi, dove si poteva, nella scuola, nel comune, abbiamo fatto il cappotto nello spogliatoio comunale. Sono tutte cose che probabilmente molte persone non ci fanno caso, che però subito hanno una spesa, ma che con gli anni danno sicuramente un risparmio e quindi soldi che possiamo spendere su altri capitoli. Questo anche grazie sicuramente agli uffici comunali, al tecnico, a consiglieri che si sono impegnati anche a cercare i bandi. Certo. Poi vabbè, abbiamo proseguito. Risparmiando soldi da una parte li abbiamo investiti sicuramente su asfaltatore, rifacimento del campo da tennis, il campo da pallavolo, abbiamo ancora in mente altre cose. Parlo di efficienza anche su varie vie, man mano negli anni abbiamo implementato il sistema a LED, di luce a LED, che sicuramente porta un notevole risparmio. Abbiamo sostituito con telecamere di ultima tecnologia quasi tutte le telecamere del paese, ne è rimasta forse una ancora dell'impianto vecchio, tutte le altre sono state sostituite. Questo sicuramente aiuta anche le forze dell'ordine quando ci sono casi particolari a tenere sotto controllo il paese. Certo, può servire anche da deterrente per i malintenzionati e fa sentire più sicuri comunque i cittadini. Sicuramente i cittadini, sì, quello sì. In pianti sportivi stavamo parlando, mi stava dicendo, dei campi da basket, dei campi da tennis, quindi sono stati ristrutturati? Abbiamo rifatto completamente il campo da tennis, il campo da polivalente basket e pallavolo è stato rifatto anche la pavimentazione, è stato fatto un cappotto sul spogliatoio comunale con l'impianto fotovoltaico sull'istituzione della Caldaio, come dicevo prima, quindi è stato rifatto in toto, così abbiamo un notevole risparmio. Peccato che non c'è più la squadra di calcio, quella è un po' una cosa per cui abbiamo il calcio a 5, ma la squadra di calcio a 11, almeno quest'anno passato, non sono riusciti a farla. Ho capito. Però comunque è della realtà di rilievo dal punto di vista sportivo Salassa e non soltanto perché è la casa del ministro Blangini. No, è anche della squadra di Serie A di Bocce. Esatto, esatto. E di Vrè la squadra però gioca a Salassa, la facciamo un po' nostra, diciamo, per cui è pluricampione italiana e europea. Abbiamo tutta la zona, penso che pochi comuni possano vantare degli impianti sportivi come i nostri, questo sicuramente non merita a me, ma merita a tutte le passate amministrazioni che hanno investito su questa fascia del paese che è rimasto anche un bel polmone verde, partendo dal Parco Gioca, arrivare fino al Bocciodrom, alla Ghetto Comunale, compresi tutti gli altri impianti. Certo. Tornando invece dal punto di vista dell'asfaltatura e della viabilità, sono state fatte anche alcune scelte come senso unico? Sì, che non mi hanno fatto anche dormire molte notti perché quando ci sono dei cambiamenti così stravolgenti, però io arrivo anche da altre amministrazioni che c'è sempre stata la volontà di farlo, forse mai è mancato, non so, secondo me il coraggio di… Io riunendo la mia squadra e abbiamo deciso di farlo, adesso si sono un po' calmirate le acque, con qualcuno ho parlato anche di numeri, nonostante il senso unico a Salassa passano mediamente 2.200 auto al giorno, per cui non sono pochi in un paese come il nostro. Sicuramente col doppio senso erano il doppio evidentemente, però c'era anche un'altra viabilità per chi la abita, per chi la passa a piedi nel paese, che adesso comunque è molto più tranquillo sicuramente. Poi ci sarà ancora da implementare, si era parlato di fare dei parcheggi dove possibile, di montare delle fioriere, delle zone anche un po' più… Adesso è tutto, come si dice, work in progress, diciamo un cantiere di lavoro. Abbiamo comprato le pensilini in quasi tutte le fermate del paese, questo anche così per chi aspetta un pullman di non stare ai 4.20 quando piove. Abbiamo asfaltato man mano per anno 2-3 vie in base alle nostre possibilità e c'è ancora in previsione di asfaltarne nel 2019, questo logicamente per rendere sempre più percorribile e migliore il paese. Sì, perché guardando c'è sempre qualcosa da fare… Sì, sì, le buche non mancano pur uno, cercando di fare il proprio meglio, quasi le conosco forse a memoria le buche. Sì, lo penso, un po' dappertutto… Sì, poi ci sono dei problemi che per carità risolveremo forse anche quest'anno di anni con degli impianti dell'acquedotto con la SMAT, ci sono soprattutto due vie, via la stazione via Giacosa che sono di Colabrodo, solamente ieri ho fatto un'altra segnalazione alla SMAT che grazie a loro prontamente intervengono, però sono sempre dei ratoppi, ci aspettiamo di rifare completamente la linea, quello sì. Sì, sì, perché poi la difficoltà dei piccoli comuni è sempre riuscire a trovare le risorse, e reperire le risorse per poter effettuare questi lavori di mobilizzazione. Questi non spettano a noi, la SMAT… Sì, no, questi sì, però in generale… Sì, sì, sicuramente i soldi a disposizione sono quelli… Io sono entrato nel mio primo anno da sindaco, avevamo, io come tutti gli altri sindaci, il patto di stabilità, per cui c'era un po' l'assurdo che noi avevamo soldi in cassa ma non potevamo spenderli perché dovevamo mantenere, rispettare questo patto di stabilità. Certo. Avevamo e abbiamo ancora la spada di Damocle della sentenza dell'ASA, per cui ogni anno nel bilancio noi abbiamo sempre, continuiamo a farlo, accantoniamo dei soldi in previsione di un giudizio che però è ancora adesso da venire, ma noi lavoriamo per quella strada, dove se, diciamo, avere torto abbiamo accantonato una parte per pagare il debito che ci spetta, diciamo. Certo, per non rischiare… Sì, di andare a chiudere i comuni, come si prospettava all'inizio, diciamo. Quali sono le maggiori problematiche di Sarassa dal punto di vista amministrativo, di viabilità o di… Ma io penso che lo vivono un po' tutti i comuni, problematiche nel senso secondo me che si è investito moltissimo, cioè si è costruito tanto in periferia perdendo il centro storico. Adesso abbiamo un grosso intervento nel centro, per fortuna, di un impresario che sta ristrutturando quattro appartamenti proprio lì nella zona centrale del ricetto. Però si è un po' perso, ci sono delle vie in zone del paese che sono quasi disabitate. Certo. Mentre abbiamo molte famiglie che vivono in nuove residenze, benvengano per carità, che però molti del paese non lo vivono, ci dormono e si alzano al mattino, vanno a lavorare, per cui viene a mancare un po' questa faccia di persone. Molte magari si conoscono se hanno i bambini che vanno all'elementare, qualcuno poi te la porti dietro in associazioni per chi ha voglia, altri quando passano le medie che vanno a Valperga spariscono di nuovo. Quella è un po' forse credo la pecca di molti paesi come il nostro. Sì, un decentramento che poi si ripercuote anche dal punto di vista economico sui commercianti perché comunque... Sì, la gente va a fare la spesa negli ipermercati e abbandona i piccoli esercizi sicuramente. Io sono cinquant'anni a Salassa e tutte le sarlande che ci sono una volta erano negozi e purtroppo adesso non che voglia, non è il senso unico che li ha fatti chiudere. Certo, sicuramente. Ci sono stati negozi di abbigliamento, scarpe, fotografo e adesso quanto altro mi ricordo che hanno aperto e chiuso perché purtroppo il mondo è cambiato e adesso come tutte certe cose le ordine addirittura da computer e te le portano a casa. Quello sicuramente non favorisce il commercio locale o dei negozi. Certo, naturalmente. Un'altra problematica invece è la bonifica dell'ex distributore che sta... Abbiamo avuto solo un incontro di recente con due tecnici dell'Agip e molti residenti ci chiedono di spostarlo, comunque le tempiste di questi serbatochi stanno facendo, si chiama lo strippaggio questa tecnica di pompare dell'acqua per bonificare la zona. L'ultima risposta che ci è stata data si parla di 36 mesi e sono tempi lunghi. Parecchio. Sì, sì, sì. Purtroppo ci siamo trovati questo problema che fortunatamente c'è un ente come l'Eni, una grossa azienda seria a livello nazionale e internazionale per cui si è presa a quello diciamo il problema, sta lavorando e interviene. Certo. Però le tecniche per la bonifica sono quelle. Quindi anche noi avevamo in mente magari altre cose, non so che poteva essere, come l'ho detto anche i signori della tabaccheria, di costruire una casetta lì per magari spostare così avere il parcheggio per i clienti, c'era l'idea della fontana o di tante altre cose, non ha fermato il pulmo, non lo so adesso. Il peso pubblico che adesso è tutto fermo, però le tempiste che purtroppo solamente la scorsa settimana parlando con gli rispondenti dell'Eni sono quelli, per cui non c'è altre vie di mezzo, dobbiamo affidarci a loro e aspettare. Ma il problema è nato dalla chiusura del distributore? Beh sì, quando hanno chiuso il distributore sono già stati tolti i serbatoi, loro prima di smantellare un impianto fanno dei controlli, delle verifiche e hanno trovato dei campioni del sottosuolo, dei valori non conformi alla legge. Per cui quando ce lo riconsegnano, ci riconsegnano la piazza a posto, soprattutto il sottosuolo. Certo, ho capito. Sarassa è molto viva anche dal punto di vista dell'associazionismo e degli eventi e della settimana scorsa il Carnevale di Sarassa che attira sempre tantissima gente. Sì, la 52esima edizione, questo grazie a un comitato che lavora, si può dire, non 12 mesi dell'anno ma 10 perché è passato il Carnevale un mese o due già il presidente del comitato che viene a parlarmi per l'edizione dell'anno dopo. Certo. Questo sì, come lui, la Proloco, la Società Filarmonica e tante altre associazioni che sono, sì, il cuore del paese, sono quelli che mantengono ancora vivo il paese, che organizzano manifestazioni. Il comune comunque come risorse di persone non avrebbe, o anche di materiali, la possibilità di organizzare questi. Quindi ci appoggiamo a loro e li supportiamo nella maniera più consona, migliore possibile. Sicuramente c'è sempre stata collaborazione in tantissimi anni con l'associazione, non c'è mai stato problema e spero che continui sicuramente. Cioè, di fatti c'è sempre stata una continuità nella realizzazione degli eventi. Sì. È una bella forza attrattiva per Sarasa. Sì, sì. Poi quasi sempre persone che sono consiglieri in comune, sono in più associazioni e viceversa, perché poi alla fine le persone in un paese che lavorano per il paese sono quelle, per cui molti sono nella Proloco, sono anche nella banda e magari sono nel comune o viceversa. Certo. Quindi c'è totale collaborazione con tutti, via. E per quanto riguarda invece la collaborazione con i comuni del territorio, limitrofi e non limitrofi, quindi la famosa rete, la famosa sinergia di cui se ne parla di anni, si riesce a fare a livello concreto? Ma sì, con i sindaci sicuramente quando ci troviamo per riunioni, poi si parla anche di altro. Lavorare per cose c'è sempre stata l'idea, però purtroppo almeno io parlo anche per me molte volte ti tieni impegnato penso all'80% il tuo comune e il restante lo dedichi agli enti, come può essere la città metropolitana, SMAT o quanti altri, e agli altri comuni. Per cui il tempo è sempre, almeno dal mio punto di vista, forse poco. Sicuramente ci sarebbe da lavorare molto di più su quello. Faccio un esempio, non so, su piste ciclabili, come potrebbe essere su altre tematiche, che su problemi forti abbiamo cercato anche di fare rete assieme, come il problema dei rifiuti o di altre cose. Molte volte la voce che abbiamo in città metropolitano, in regione o se no a livello nazionale è poca, perché forse paghiamo anche non avere un esponente a livello nazionale politico che ci tuteli un po' di qualsiasi partito, però non abbiamo un appoggio forse forte su quello, e per cui io credo quando, non so, a Roma devono spartirsi un po' la torta, il canavese è sempre l'ultimo. Mi viene adesso in mente l'esempio sulla variante 4,60. Io ero consigliere con Bolatto, parlo degli anni 90, avevamo presentato noi, così come tutti gli altri comuni, già la cartina dove doveva passare questa variante, la 4,60. Siamo nel 2019 e siamo ancora lì che dobbiamo farla, purtroppo. È già tutta tracciata sulla carta, ci sarebbe già neanche più da espropriare terreni, però manca il finanziamento e questo deve partire da Roma, dall'ANAS, dalla regione, e quello è un grosso problema, secondo me, che hanno molti dei nostri comuni, perché sono attraversati da TIR continuamente, siamo contenti perché trasportano soldi, danno lavoro alle fabbriche, però questa strada risolverebbe molti problemi di viabilità di tanti comuni, che può essere Salassa, Valperga, Rivarolo, Favria, Busano. Quella è sicuramente una tematica, abbiamo cercato anche di lavorare tutto assieme, lo stiamo ancora facendo adesso, speriamo adesso, sembra che molte strade della città metropolitana, ex provincia, dovrebbero passare all'ANAS. Dicono che l'ANAS abbia delle varie risorse di milioni da spendere, speriamo che questa volta li spendano nel nostro territorio. Sì, perché se non erro vogliono metterlo proprio come condizione, il fatto che vengono attivati e attuate alcuni progetti. Assolutamente sì, sia per l'industria che diciamo per il turismo. Sì, anche per una questione di sicurezza, oltre che di... Sì, i camion sono aumentati sia di numero che di peso, vedi l'esempio del ponte della Piedemontana, però le strade sono sempre rimaste queste, per rilacciarmi al famoso senso unico di salasse è la stessa cosa, abbiamo la strada di quando passavano ancora le carrozze, ormai le auto sono diventate, se ci sono quattro persone in famiglia maggiorenne ci sono quattro auto, e per cui, e si ripercuote sulla viabilità e sui parcheggi, ma le piazze sono sempre quelle. La gente purtroppo è anche un po' pigra, non fa un passo se non ha la macchina. Io dal mio piccolo cerco di dare il buon esempio, infatti molti cittadini mi vedo passare più in bicicletta che in macchina, io vado in comune anche, non dico quel cattivo tempo sotto la pioggia, ma anche nei mesi invernali uso la bicicletta. Magari non tutti possono per motivi di salute o altro usarla, però si paga le volte per andare in palestra, basterebbe anche solo camminare un po' di più, ci si guadagna sicuramente della salute. Poi lo dice uno che penso che di tempo libero non è anche poco, per cui viaggio anch'io di corsa come tutti, però basta poco per ritagliarsi anche un momento di benessere per sé e per tutti gli altri. Sì, che è fondamentale. Salassa ha subito un disagio che poi è stato sopperito in parte, che è quello della chiusura della filiale della banca, che è una cosa che ha colpito diversi comuni e in ultimo adesso Bosco Nero. Sì, purtroppo con questa ristrutturazione sia intesa San Paolo che Unicredit, ce l'hanno comunicato freddamente così con una lettera, arriva un giorno in comune, il geometro mi presenta questa lettera, che da lì a tre mesi avrebbero abbandonato la banca. Si sapeva già da livello nazionale, di tv, giornali, che c'erano queste intenzioni, però vederselo comunicare così è sempre un po'... Siamo riusciti a mantenere almeno, spero per anni, comunque il Bancomat, quello spero di sì, almeno un servizio ancora per i cittadini. Purtroppo quello della banca sono andato anche in direzione centrale a San Paolo a Torino, a parlare fin dove sono riuscito, io con i vertici però, sapendo purtroppo che comunque quando prendono queste decisioni non è il sindaco di un paese piccolo che li può far cambiare idea. No, di fatto anche per le state multinazionali che prendono decisioni in base... Paghiamo, se si può così dire, la vicinanza con Rivarolo, capisco, dal loro punto di vista. Fossimo stati a 30 km da Rivarolo con nessuna banca vicina, forse si sarebbe salvata la banca. Essendo vicino a Rivarolo, poi loro puntano sulla banca online, sui movimenti da internet e quindi dimenticandosi degli anziani, che purtroppo gli anziani molti non sono avvezzi alle nuove tecnologie, questo però i grandi multinazionali purtroppo, così come quando chiudono le aziende, non ne tengono conto di queste cose, guardano il mero profitto, per cui sento adesso molte persone che vanno in banca a Rivarolo e lamentano delle code che ci sono, perché comunque la banca è a Rivarolo, ma lo sportello al pubblico è uno, forse due, neanche, per cui ci sono code interminabili. Cioè, forse a livello proprio così generale, l'idea di spingere verso tutto il training online o come si chiama, di lavorare da casa, però molte volte quando uno deve fare una firma deve fisicamente andare in banca e deve aspettare. Eh sì, difatti. Un sindaco un po' fuori dall'ordinario, perché la si vede in tutte le vesti, in tutte le... tipo protezione civile piuttosto che... Sì, quello è... non so se è un pregio o una pecca, me lo rinfacciano anche i dipendenti comunali che dovrei fare più il sindaco e meno... io ho sempre fatto... adesso sindaco, ma se si può dire senza nulla togliere i vigili, il vigile quando necessitava, protezione civile, il cantoniere, non ho mai disegnato di salire sul porter per andare a sistemare cartelli o quanto altro, perché comunque in un paese piccolo devi farli, io credo, perché giustamente gli impiegati, i dipendenti hanno un loro orario. Dopo una certa ora di pomeriggio il comune sei tu e i consiglieri volontari, sabato, domenica, festivi, Natale, prima dell'anno Pasqua, il comune giustamente è al suo torno di riposo e quando c'è qualcosa ci sei tu. Ho sempre fatto... ho dato disponibilità 24 ore su 24 nel limite del possibile e questo è un po' una medaglia a due facce perché molte volte ci si approfitta anche un po' per cose magari che non sono emergenze, ma io comunque ho sempre risposto a tutti e ho sempre dato la mia disponibilità. Adesso, ultimamente, abbiamo ancora comprato un trattore, come sei visto, un po' nei giornali locali, che era un po' un mio vezzo perché, almeno dal mio punto di vista, lamentavamo questa lacuna. Spesso e volentieri dovevamo affidarci a dei consiglieri, a degli amici che ci prestavano il trattore per fare dei lavoretti o per sistemare delle cose e secondo me un comune deve essere attrezzato per certe cose. È vero che si può appaltare delle imprese tutto, ma se mi succede un problema alle 10 di sera o la domenica e magari ho anche finito la disponibilità di finanziare con questa impresa, devo in qualche maniera intervenire. Per cui abbiamo comprato dopo anni che non c'è mai stato un trattore e speriamo che venga usato nel meglio possibile, come credo sicuramente sarà fatto. Certo, e finora l'ha utilizzato lei? Sì, sì, due volte che è uscito, sì, sì, per adesso sì. Altre cose che sono state fatte comunque a Salassa di evitare importanza, ad esempio, evitare, sì, evitare in questo caso il centro prelievi di sangue? Sì, un punto prelievi di sangue che non c'era mai stato in paese, questo grazie al vice sindaco, all'assessore Roberta Bianchetta, si sono attivati per creare un punto di prelievi, sempre per il problema delle persone anziane. Certo. Quindi penso che sia una bella cosa avere un punto prelievi a Salassa, in cui uno può andare a donare sangue e poi ricevere la settimana dopo gli esiti. Sì, questo sicuramente sì. Scusa, un servizio utile. Un altro servizio che sarebbe utile, ma che non è ancora stato attivato a Salassa, ma verrà attivato per il 2020, è la banda larga. Quindi c'è una carenza dal punto di vista di collegamenti internet? Sì, quello sì. Difatti moltissimi, sia commercianti che imprese, semplici privati che lavorano da casa col computer, lamentano soprattutto in certe fasce orari, che poi magari sono quelle in cui si concentra più il traffico, la lentezza di internet, quello sicuramente sì. Negli anni era stato ovviato questo problema parzialmente sistemando delle antenne sul campanile. Sì. Non faccio nomi di operatori per non fare pubblicità, comunque sì. Però oggigiorno serve sicuramente la banda ultralarga. Come altri comuni ci siamo iscritti anche noi a questo bando, al piano nazionale. I tempi sono settembre 2020, si spera di accorciarli. Adesso ultimamente siamo venuti a conoscenza, perché comunque hanno fatto anche domande in paese per fare lo scavo di un'azienda privata di Salassa, che ha richiesto la banda ultralarga alla Team. E abbiamo chiesto la possibilità, visto che devono tracciare un chilometro, un chilometro e mezzo di fibra per portare in questa azienda, la possibilità, almeno per i residenti di quella zona, di poter allacciarsi alla fibra. E stiamo aspettando appunto un appuntamento con un signore della Team per vedere la fattibilità di questa cosa, che almeno non risolve il problema, ma almeno una parte del paese, spero che ci sia la possibilità di avere la banda ultralarga. Anche perché sta diventando sempre più necessario, basti pensare anche solo alla fatturazione elettronica. Certo. E con una connessione lenta diventa difficoltoso per gli operatori commerciali. Un ragazzo che studia all'università, c'è la possibilità un domani di seguire le lezioni da casa. E questo è un bel vantaggio, sapendo anche dei problemi che ci sono con la ferrovia. E questo è un altro di quei problemi che riguarda tutti i sindaci della zona. Anch'io faccio parte della rete di comuni SFM1, per cui seguo giornalmente le lamentele che ci sono su questa tratta. Un altro grosso problema dei nostri comuni, che ci si lamenta della viabilità. Io sono una di quelle persone che, molti che lavorano a Torino, vorrei prendere il treno. Io ho fatto le superiori a Torino, ma i tempi che c'erano 30 anni fa e anche più, sono gli stessi se non peggio per andare a Torino. Siamo nel 2000 e passa con i treni che viaggiano di 300 all'ora. Il nostro viaggio è 50 e siamo tornati veramente all'epoca delle Far West. Speriamo di risolvere più presto questo problema, che sicuramente aiuterebbe molte persone, studenti e pendolari, a lasciare la macchina magari a Rivarolo o alla propria stazione e usufruire dei servizi ferroviari. Quale sarebbe il modo migliore, secondo lei, per risolverlo? Uno, e sicuramente lo conosce anche il GTT, quello di installare quel famoso sistema di allerta che blocca il treno se trova su un altro minario un treno. Questo è il motivo per cui adesso non vanno neanche più i 70 o 90 all'ora, ma i 50. I problemi si conoscono, c'è il nodo ferroviario di settimo, per cui il treno che è della GTT deve dare precedenza a quelli del Trenitalia a fare ovvie dello Stato. Per cui se c'è un treno in ritardo, loro non si possono immettere. Ma questo, me lo ricordo già 30 anni fa, questo problema non è mai ancora stato risolto. Non so se bisogna fare un passaggio opposta, una linea solamente a settimo dedicata per quello. Quello è il grosso problema. Sicuramente se ci fossero due binari sarebbe molto meglio, però già averne uno efficiente credo aiuti molto sul problema. Si sarebbe già un buon passo avanti, senza dubbio. Sindaco uscente a Sarassa, il pensiero? Il pensiero è quello che mi domandano molte persone. So che molte persone apprezzerebbero un mio secondo mandato, un mio coinvolgimento. Io, come ho detto anche prima, arrivo già da una storia abbastanza lunga. Sono stato due amministrazioni con il sindaco Guido Bolatto, un'amministrazione con Ansinello. Per cui sono vent'anni che sono comunque in Comune. Credo di avere dato tante ore, giornate al Comune. E sono anche dell'idea che uno non debba farlo a vita. È giusto, ci sono molte persone anche sui social che scrivono e secondo me dovrebbero anche provare l'avventura in Comune per vedere che molte cose da fuori sono semplici. Poi quando sei lì in Comune ci sono giustamente delle regole da rispettare, delle tempistiche che i Comuni hanno, che sono molto più lunghe di quello che può essere la vita di un'associazione, di una persona, di una famiglia. Bilanci e quanto altro che può essere diciamo un'azienda. Ed è un'azienda ormai diventata il Comune perché va gestita come un'azienda. Per tornare a quello, io so, c'è una persona che sta lavorando per fare una lista che mi ha chiesto se io mi ricandidavo. Io ho detto che non vorrei lasciare il Comune commissariato, per cui mi sarei ricandidato se non ci fosse nessuno. C'è questa persona che sta cercando di fare una lista per cui io lo lascio lavorare tranquillamente. Ho detto se ci sarà un bisogno di, non dico di un mio appoggio, ma di consigli. E qui e là sicuramente sono del Paese e lavoro per il Paese che sia dentro che sia fuori dall'amministrazione. Se non dovesse farcela per lasciare il Comune commissariato sicuramente rimarrei ancora via. Sono un po', come si dice, non dico indeciso, però adesso è avviato il Comune. Sono entrato, come ho detto prima, con, non dico mille problemi, ma c'era stato il patto di stabilità. La segretaria comunale ha avuto dei problemi di salute, per cui è andata in pensione. La ragioniera è andata in pensione, ci siamo trovati con delle figure importanti del Comune a scavalco. E quindi sempre con un continuo cambio di persone in posizioni strategiche. Questa situazione adesso si è appianata, si lavora serenamente. Abbiamo anche assunto un nuovo cantoniere, solamente tre giorni, non una settimana come prima, però almeno abbiamo un'altra persona in più. Sicuramente ci sarebbe bisogno di più persone. Comunque si lavora abbastanza serenamente, quindi lascio un Comune come mi hanno lasciato altri prima. Sicuramente con un bilancio attivo, ci sono soldi e non bisogna fare grossi sacrifici. Un ambiente sereno e questa è una bella cosa, lavorare comunque con dipendenti che vanno a lavorare serenamente tutto. Dall'altra parte, se uno pesa anche le cose, io ho tralasciato molte volte impegni miei di famiglia, un po' di lavoro, anche hobby. Per molti anni il Comune è stata la mia seconda famiglia, molte volte andavo via da casa dicendo sto via mezz'ora, poi la mezz'ora diventava due o tre ore, perché comunque quando c'è lì c'è sempre qualcosa da fare. L'ho fatto ben volentieri, non me l'ha prescritto il dottore, l'ho fatto per il mio paese. Ci sono ancora cose che magari mi piacerebbe vedere realizzate, adesso ne dico una che era un po' mio vezzo il discorso della ex chiesa dei disciplinanti. Sono tre anni che siamo stati direttore alla curia, adesso finalmente, ma era già stato così tre anni fa, sembrava lì la firma imminente, poi c'era sempre qualcosa, cambio di parroco, la curia che chiedeva un documento, il parere delle belle arti. Adesso sembra che siamo arrivati a buon fine, sarebbe una cosa che mi piacerebbe terminare, quindi magari la lascio ad altri, spero che la vogliono proseguire. Questo è un po' un vezzo, noi non abbiamo mai avuto, al di là del bocciodrum, usavamo la palestra comunale, però la palestra va usata come palestra, non come teatro ed altre cose, per cui c'era sempre un po' di problemi di danneggiarla, di dire alle persone che hanno affittato la palestra di non usarla quella sera. C'era l'esigenza, secondo me, di avere un locale dedicato ad altro, che sarebbe quello, e speriamo comunque di vederlo finire, se non io da sindaco, il prossimo che arriva, per cui questo è forse la cosa che mi è rimasta un po' da terminare. Ringraziamo il sindaco Soggio Gelmini per essere stato qui con noi per questa bella chiacchierata, a tutti auguro un buon conseguimento, continuate a seguirci. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi.